La Corsa Ciclistica La Pagliati, la Godard, eccoli in persona gli ospiti del vostro altoparlante domestico. Queste macchine sono le complici del vostro desiderio. Desiderate musica? Sul ritmo di partizia fa Capolino il trio Aurora. Mario Rossi vi conduce sotto il tetto casalingo Rossini. Gabriele Santini pescavano la rete rossa o azzurra di Porta Bellini. Ma la trasmissione delle 20 e 22 vi fa battere il cuore. Può darsi che il vostro libretto di abbonamento vinca Radio Fortuna. Ci sono 70 milioni di premi. Vi eravate abbonati per la musica o la commedia? Vi può arrivare in casa una a Topolino. E' tutto una pratocina.